Stampare le proprie etichette promozionali di offerta da solo ovviamente è un grande vantaggio perché non abbiamo nessuno spreco, quindi possiamo stampare esattamente la scritta che ci occorre, il messaggio che ci occorre con il colore e la quantità giusta. Quindi come vedete c'è un'autonomia del processo di stampa che è assolutamente conveniente. Il trasferimento termico è una tecnologia di stampa monocromatica, quindi possiamo stampare un colore alla volta ma è estremamente efficace, velocissima, possiamo stampare una, due, mille bollini in funzione di quello che ci interessa dell'immagine da stampare, quindi uno sconto, un'offerta, assolutamente la quantità necessaria senza nessuno spreco, cambiando colore possiamo avere degli effetti differenti, come vedete qua tutta una serie di soluzioni su materiali che vanno dalla carta alla plastica, all'interno alloggiamo un nastro che è quello che imprimerà il colore alla nostra stampa. Questa tecnologia ci permette di essere veloci, estremamente produttivi, non fare stock di bollini che rimangono inutilizzati perché noi ne possiamo stampare anche solo uno una volta senza nessuno spreco, cambiando il colore, cambiando il layout, cambiando la forma e la dimensione dell'etichetta per qualsiasi esigenza operativa, come vedete è di una semplicità estrema nell'utilizzo e quello che possiamo realizzare è efficace in qualsiasi tipo di soluzione chiamata on demand, quindi ci serve una determinata forma, un determinato colore con un certo messaggio siamo pronti per un utilizzo immediato della stampa.